Ecco i corrido, due! Quelli bravi! Sì, due, tre, tre! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Bravo! Bravo! Eccolo, guarda! Sembra di... E' stai quando ne sono? Ma hai visto? Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Finito! Sì! Andiamo a casa adesso! Questa è l'ambulanza ed è finita! Questa è l'ambulanza ed è finita! Eccolo, per l'ambulanza! Questa è la quante bici che ti bisogna! Questa è la quante bici che ti bisogna! Quante bici! è una macchina a banana è una macchina a banana, è una macchina rosa questo che cos'è? questo è un piccolato guarda questa è una borraccia guarda lui invece e c'è questo che fa sempre saluta lì saluta 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 saluta